oh yes ciao mario ma cosa è semplice mario e voilà oh ma neanche le maniglie hanno normali in questa città cioè ci rendiamo conto della crisi qui c'è una freccia bianca qui c'è una freccia blu e qui c'è una freccia rossa che erano già lineate anche prima quindi questo quindi è per asciugare e pulire quindi c'è freccia qua freccia ah io devo metterlo così freccia bianca mi faccio un disegnino scusate ho carta e penna a portata l'intera città progettata dall'ingegnere mille mille milioni di sendi panni ma porca merda quindi il cerchio interno non sto scrivendo sui appunti no ok perché ho preso anche gli appunti su sti fogli cerchio interno c'è questa inclinazione qua il cerchio esterno ha questa inclinazione qua sto facendo un disegnino eh e dove cazzo sta l'ultimo uno è qua l'altro è qua dove è il terzo è qua ok ci proviamo vediamo allora andiamo a vedere se funziona uh grazie argon che mi hai segnalato nuovi subscribers orso e enigma897 benvenuti grazie per seguirmi su twitch eh grazie grazie mille vi ringrazio il supporto è sempre apprezzatissimo grazie argon per avermelo segnalato perché purtroppo io devo sistemare questa cosa del del suono quindi dovrebbe essere sì sì oh yes venite alla fiera oggi ah è rotta la maniglia posso prendere la maniglia sotto non si può riparare questo oh bicicletta quindi immagino che prenda l'acqua ah no questo porta l'acqua quindi tira l'acqua dal fiume eh ci sono le le ilse le le come si chiamano eh porca eva eh le anguille ilse il è anguilliformi se non anguilla quindi se tiro questo per dirgli sì anguilla anguilla quindi quello aperto il il tubo e ok fa più rumore però non so cos'è ok ho fatto riparti tutto credo guarda che figata e credo che avessero effettivamente dell'acqua che soccorre non credo non credo l'anguilla però che forza quindi andiamo giù vediamo che succede giù ops scusate ok non volevo essere mi perso dei messaggi ciao jazza ciao buona buonanotte si avanza tempo fa una piccola non so asa che si vediamo ma non so se avanza tempo ma ci potrebbe fare se avanzasse ah e torno su non posso scendere sì che posso scendere no non posso sì ok posso scendere questo è un banjo ehi c'è nessuno aspetta un minuto che è un visitatore oh ciao scusa di disturbarti ma volevo chiedere se potessi aiutarmi sì posso aiutarti da qui farò il mio meglio sto cercando il mio nonno il tutto fare permettimi di fermarti non troverai nessuno qua giù vuoi andare su vuoi andare a prendere vuoi andare a avere una bella vista qua giù ci sono solo io solo io il fiume e mia moglie di certo è in casa è nella casa di tuoi te vivono separati ma questo piccolo posto è tutto mio probabilmente è la sua studio se devo essere onesto non posso riuscire a rientrare in casa in ogni caso sono in un piccolo problema due piccoli problemi in realtà oh mi dispiace questi sono i problemi beh prima di tutto mia moglie non mi lascia rientrare e se la conosco probabilmente è arrabbiata e quindi non fa entrare nessuno e perché è arrabbiata? non è colpa sua è colpa mia era il nostro anniversario vent'anni fa le ho scritte una canzone oh come l'amava per l'ultimo anno le ho promesso che le avrei suonate di nuovo hai un'idea amorevole ma qual è il problema? che non me la riesco a ricordare oh eh si è un dolore nei vecchi gengigli anche se non era così la traduzione ma non è tutta la verità se devo essere onesto io riesco a ricordare diverse parti ma non riesco a mettere le parti assieme e provare a suonare il ritmo tutto allo stesso tempo oh no 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 troppo magari sto solo rallentando ma sembra che abbia bisogno di un paio in più di mani per suonarla davvero non credo che lei sia felice a meno che non possa sentirla suonata come era un tempo beh come posso aiutare? credo che tu possa fare qualcosa qui potrei uscire e insegnarti qualcosa oh bene il prossimo problema non posso ah il secondo problema è che non posso uscire eh perché? eh si è un po' imbarazzante non ho pantaloni non hai pantaloni certo che ho dei pantaloni ma gli ultimi il mio paio è rimasto nella ruota nel parco li ho messi per farli lavare come al solito e non sono più tornati posso uscire se riesco a trovarli e a lavarmeli per me sono verdi ho lasciato una nota sui loro chiedendo di dargli per che mi sono al centro della ruota grazie eh se gli aiuto ok andiamo a prendere i suoi pantaloni capito perché devo far partire la ruota che bella lavatrice visto? utile intelligente ingegnere cane col piccio ancora eh prendi la corda di grazia ok eeeh up we go ma vacci però vai su ok adesso vai su sei ore per scalare sta fune eccoli coi pantaloni verdi sì ho capito ma ah ora ho capito perché va su ah mi devo eh devo fermare la lavatrice quindi credo di averli lavati adesso devo fermare tutto comunque sono languille a generare l'energia ok ci viverei in un posto che va da anguille se devo essere sincera ah 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 sarebbe molto curioso quindi devo scaricare anguille così guarda ci sta funzionando tutto ah e c'è quella rotta e come faccio a fermarla adesso? ho capito che c'è un piccolo problema come faccio a fermare lo spruzzo what the fuck ehm ci sono quelli cosi che si due che oggetti ho per curiosità? un limone puoi aprire la tua borsa ma le no non puoi aprire la tua borsa mmm dove sta andando? ok se stai qua andavo prima a fermare lo spruzzo ma come faccio a fermarlo? datemi una mano per caso Instagram no non ho Instagram è uno dei pochi social network su cui non sono non ho grandi foto da mettere cioè se ho delle foto da mettere così al volo le metto su ahia su come si chiama? o sulla pagina Facebook o su Twitter comunque non foto mie non preoccupatevi cioè nel senso non foto personale io ho un limone prenda il mio limone in sacrificio io voglio fermare tutto in realtà no ma non gli serve perché tu già va perché non mi fetterevi l'anguille? va bene perfetto ah perché poi mi serve per scendere sul piolo rosso della ruota adesso ci provo ma prima è stato un attimo che ancora non era partito nel senso ho scaricato senza che partisse al piolo rosso della ruota poi mi sa che mi devo mettere qua il problema è che mi dice che non ci sale se non lo sta questo no mannaggia ora non è che posso tipo cambiare la direzione di sti cosi in qualche maniera no funzionare è un posto che vada anguille a limone così è sempre da mangiare dimenticare la spesa cedilo per una buona causa dove è attaccata la corda dite stop al sottamento dei limoni ah te dici quello ok adesso ci vado a dare un'occhiata però il problema è che non mi fa interagire con quelle cose lì se non è che magari devo andare giù a prendere qualcosa andiamo giù è l'unica zona dove non so se sta uno stato usa il limone per bloccare lo spruzzo io ci provo no non posso neanche accedere all'inventario da qua proviamo ad andare giù magari c'è qualcosa giù che non ho visto anche se mi fa davvero strano scendi che sennò ci siamo due ore ok magari la signora ha qualcosa per me signora l'ha portato un limone è meglio che non ci sia qualcuno qua fuori non sono dell'umore giusto oh salve mi diciaci a suddarla non dirmelo no oggi no probabilmente devo passare verso casa sua per qualcosa no niente ma ho detto sia ben arrabbiata perché non è suonata la canzone cosa vedo non riesce neanche a ricordarsi del nostro anniversario è andata fuori la nostra piccola capanna non è ancora tornato si sta nascondendo a me lo so in ogni caso torno dentro e non non farò niente finché non sento di lui ok va bene faccio come vuole ma già non per conness no devo capire questa ecco cosa mi serve posso prendere questa chiama inglese oh si prendi la non la uso ecco cosa mi serve ho trovato la maniglia c'è una cosa e direi che è giunto l'ora del manuale in effetti è utilizzabile il manuale sali ok il problema è che sì infatti non essendo un enigma probabilmente non c'è scritto o più che altro doveva esserci da qualche parte un numero che mi aiutasse a capire comunque dovrei aver trovato non vediamo la pelle della loro opinione di averlo preso ma dovremmo esserci ok e oh sì però oh yes quindi la macchina va sempre ma non va al flusso oh esattamente non che sia comunque utile che vada sempre ecco risolto basta cliccare in giro no vabbè dai l'ho notata ecco come era non è stato un click casuale quindi ci dobbiamo mettere qua a prenderci allora qui si illuminano in tre penditi ok e mo e mo riscendiamo dai che sono qui sono qui i pantaloni cosa devo fare sono confuso oh mi illumina questo questo e questo che è l'unico che non ho ancora provato ok ok vai di qua vai di qua ok una volta che sono dentro non esco più ed è quello che volevo madonna mia che giramento di testa ah è sul cazzo di pantaloni adesso scendiamo facendo tutta la star ok ok svelato l'arcano vai giù mi sono distratto un attimo e già non cliccavo più nel posto giusto per l'amore del cielo scendiamola qua ok e voilà ho i tuoi pantaloni vecchiaccio maledetto scendi ogni volta mi dimentico d'accordo bevo un goccio d'acqua sono ancora con la cola pezzi dal gioco precedente vecchio i tuoi pantaloni ho questi per te got here a little damp but clean non so cosa sia damp perfetto per me esco ah ed esco questo è un fantastico banjo scusate scusate sono curioso di vedere come sarà adesso questo enigmino adesso diventa guitar hero allora pensi di potermi aiutare? farò del mio meglio già mi piace la chitarra beh siamo già a metà della battaglia una chitarra che ti piace e una che puoi suonare come dico vent'anni da quando ho scritto questa canzone quindi ho problemi a suonarla tutta voglio che la senta suonata come doveva essere dall'inizio alla fine e in sei parti suonerò ognuna a giro così che possiamo allenarci alla fine dovremo farla tutta assieme sono sicuro che sentirà se la facciamo giusta che ne dici? pronta? pronta ok allora la prima parte calma calma di suonare ok perfetto oddio che ansia seconda parte adesso provate eccellente eccellente la sua terza parte ma io devo fare le tutte poi avanti prova non mi ricordo più ok ecco la prossima ok ma quello è beppe grillo quindi è come bastare quindi è come la prima invece no perfetto la parte finale e ti fa sempre suonare cinque note veramente qui l'ho cambiato l'ultimo l'ho sbagliato subito sono un chitarrista ok ripetimelo ok adesso non la ricordo artista ok io devo ricordarmelo com'era ragazzi ma com'era ok ok chi se la ricorda raga ho bisogno di una mano ok vedimelo ok ah da l'inizio devo rifartela oh madonna no vabbè dai ok me la ricordo adesso me lo disegno blu rosso giallo adesso mi faccio lo schermo ho sbagliato datemi un attimo adesso me lo scrivo ok ok prego me ok ho sbagliato però adesso me la scrivo non preoccupatevi dammi un attimo quindi blu blu sotto blu ultima ok sto usando foglio sto usando foglio poi ho rosso rosso sopra 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 perfetto prossimo e prossimo ho cliccato sui corda eh lo so che è sbagliato ok eh ah da capo devo fartela però maledetto bastare perfetto quella dopo è rosso rosso bianco bianco blu poi abbiamo sotto il giallo perfetto la prossima non me la ricorderò mai non mi ha detto le palle per i colori tac 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 e a rosso e a quello sotto ditemelo subito e a rosso e a quello sotto io intanto sono e poi me lo dite oh mi sa che è a quello sotto ok è a quello sotto e adesso hm e lo so che è sbagliato ma che se non ricorda quindi blu blu sotto blu e all'ultimo un due tre mi sa di sì ci proviamo ok 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 adesso è blu fantastico rimane l'ultima parte che che però posso ipotizzarla non ci credo me la ricordavo vedi che anni di pianoforte al bambino sono servite qualcosa in realtà è una ripetizione della seconda strofa con un pezzo in più ok meno male che non devo rifarla comunque è la magia dell'ultimo secondo oh la sapevi che bello lo sapevo lo sapevo che lo sapevi fantastico sono felice ci baciamo facciamo l'amore no vi prego no non voglio mai più suonare uno strumento belingici per l'ultimo ah sono così felice ho la mia chitarra il mio fiume i miei pantaloni è quello che lo sia abbastanza importante cosa potrebbe volere di più un uomo non lo so forse puoi vivere senza fiume senza chitarra ma i pantaloni ragazzo mio suona pure se vuoi e chiedi se vuoi che suoni qualcosa di diverso mi turba che sia al contrario la scala nel senso in una chitarra la corda più alta è quella più col tono più grave e la corda più bassa è quella con il tono più acuto sono mi mi invece mi sa che sono note diverse acuta alta questo mi da un po' facile ma vabbè grazie per il tuo tempo è stato divertente ok quando vuoi torna a giocare a divertirti va bene mai più ciao tre ore mi hai tenuto qua bastardo vecchio senza pantaloni pervertito ti entro in casa voglio farla tempo no mi faccio entrare ehi felicissimo adesso mi dispiace proprio come ho detto prima ero davvero in un pessimo uore ma non ci crederai ho sentito che mi suonava la mia canzone l'ho suonata io come se mi stesse facendo una serenata perché come eravamo giovani mi sento molto meglio adesso ti dico cosa adesso vengo giù e ti apro la porta per te vuoi andare su quella grande ruota attraverso il nostro giardino posteriore fai attenzione c'è una fantastica vista ma a me io soffro di non mi viene il nome come si dice qua divertigi ci suona i led zeppini ah quindi questa si passava diet un tempo sapevo fare tipo 4 note non di più di starry to heaven non di più anche qui ci sono i ciclisti siamo rovinati io ho pensato di aver cliccato su di lui però se vuoi andare su le tour cioè lui in pratica può andare in bici qua sopra è una figata se devo essere sincero non so perché sono salito non so perché sono risceso se devo essere sincero parla con lui ah oppure entra in casa posso fare un giro sotto a bici su questa bellissima macchina beh adesso non permetterei a chiunque di toccarla ma ho un limone ho un limone ho un limone vabbè torno poi ad aggiustare ti giuro si ho capito posso premere solo qua e quando lo faccio ah queste sono non avevo mica capito ma posso spostarle non avevo mica capito quale era l'enigma grande mago perfetto tenti di fare il riscaldamento prima io posso salire yeee non so neanche perché lo stia facendo se devo essere sincero no secondo me devo modificare qualcosa però adesso scendi scendi non mi piace l'ho mi sa che quel coso rosso va tipo alzato modificato si probabilmente va alzato questo qui non vedrà mai più la sua bicicletta in realtà no è Jimmy Page ma avete scoperto e infatti e mo ragazzo mio te stai facendo un investimento nel futuro permettendomi di utilizzare la tua bicicletta e ti sei anche fidato di me adios amigos ah no dovevo saltare maledizione vabbè si ripete si ripete weee